Benvenuti in questa nuova puntata, io sono Federico Lonzoni e andiamo subito a vedere il grafico di Bitcoin che nei giorni scorsi quando abbiamo seguito la diretta per quanto riguarda la decisione sui testi di interesse da parte della Fed ci ha fatto un po' di brutti scherzetti. Infatti se fino a qualche giorno fa pensavamo a una sorta di rally di Natale dato che Bitcoin praticamente dal 22 novembre ad oggi anche seguito un po' dal rialzo che avevano fatto i mercati tradizionali aveva fatto praticamente un più 20% ecco tutto da rifare dopo il discorso di Powell e della Fed si ritorna giù. Praticamente hanno rialzato i tassi di interesse di 50 punti base quindi un po' come era da previsione ma quello che alla fine Powell ha detto come vi ho fatto vedere in questa diretta non è piaciuto ai mercati perché appunto Powell ha detto che l'inflazione comunque rimane alta e non bisogna fare il rischio poi di trovarsi con un'inflazione che magari adesso scende per poi farla aumentare poi negli anni a venire. Quindi Powell vuole al momento mantenere i tassi di interesse ancora abbastanza alti non li riabbasserà nel breve termine quindi ci sarà anche magari un periodo in cui vedremo i tassi di interesse flat però come vi ho scritto anche qui all'interno del mio gruppo Telegram gratuito Tartoro trovate il link qui sotto in descrizione per unirvi. Eccolo qui questo è il dot plot ovvero la proiezione dei tassi di interesse secondo la Fed e vi fa vedere come nel 2023 ci dovrebbe essere quella solita di top per quanto riguarda i tassi di interesse che potrebbero arrivare secondo la Fed fino a 5.5 per poi iniziare nel 2024, nel 2025 e così via ad andare a scendere. Quindi non aspettatevi un calo da parte dei tassi di interesse nell'immediato questo significa comunque andare a vedere i mercati tra cui primo tra tutti abbiamo il nostro SP500 che se andiamo a vedere il grafico continuo ragazzi il suo downtrend lo vediamo qui è un chiaro cioè chiaro downtrend non è riuscito. L'abbiamo seguito nei giorni scorsi vi avevo detto che se Powell diceva cose positive se l'SP aveva le forze di superare questo canale discendente non l'ha avuto e stiamo tornando giù ora bisognerà vedere e capire cosa vuole fare il mercato. Ma al momento non sembrerebbe che ci siano chissà quali forze sul mercato tuttavia a mio parere su un discorso di lungo termine ovviamente non sono consigli finanziari rimaniamo a un buon meno 20% e praticamente è un crollo che ormai dura da praticamente un anno ragazzi. Un anno che l'SP500 è in bear market questo comunque è interessante ci sono delle azioni tipo come Tesla che è sotto del meno 60% da inizio anno praticamente le stesse performance guardate qua le stesse performance di Bitcoin cioè questo fa riflettere Tesla meno 60%. Quindi insomma non è una situazione facile né tanto per le crypto ma neanche per i mercati tradizionali quindi siamo un po' non è colpa di Bitcoin cioè Bitcoin ragazzi bisogna capire che non è cambiato Bitcoin è rimasto lo stesso cacchio di asset di quando valeva l'anno scorso 60-50 mila euro non è cambiato è rimasto lo stesso anzi semmai è migliorato ok ma non è cambiato di cioè è cambiata la condizione macroeconomica Quindi il discorso da fare e da vedere non è tanto su Bitcoin di per sé ma è più secondo me sul discorso macroeconomico quindi abbiamo bisogno che la macroeconomia vada a migliorare. Ora 2023 come vi ho già detto poi vi farò un bel video verso la fine dell'anno dove vi dico un attimo cosa mi aspetto per il 2023. Secondo me ragazzi il peggio è già passato questo non significa che Bitcoin non possa fare dei nuovi minimi sul breve termine come ci siamo già detti guardate qua Bitcoin attualmente e queste cose qui ogni tanto ve le scrivo sul gruppo vi faccio delle analisi breve e abbastanza sintetiche poi vi vado a analizzare meglio in queste puntate. Cioè vedete che Bitcoin l'altro giorno è andato a testare questo livello qui sui 18.600 più o meno in realtà qui era bloccato dalla media 300 weekly sui 18.200 quindi non è riuscito a andare oltre l'altro livello che vi ho detto ragazzi non è facile superarlo. O abbiamo un pump consistente oppure si ritorna giù vedete che comunque questo livello che ha fatto da supporto praticamente da giugno a novembre è andato a toccare Bitcoin il prezzo di Bitcoin è andato a toccare 18.600 praticamente 15 volte ragazzi 15 volte ok. Non si può sperare che con una candelina del genere si possa andare su tra l'altro candela anche abbastanza brutta sul giornaliero e si vede come Bitcoin non è riuscito neanche a tenere questo livello che vi ho detto che era importantissimo per i bull i 17.600 quindi andare a creare una sorta di struttura qua con anche la media 300 weekly che ve la faccio vedere era praticamente qua ecco la 18.200 quindi non siamo andati a creare una struttura rialzista e andare un po' a lateralizzare crescente no Bitcoin ha fallito questo test ed è ritornato nel box in cui eravamo praticamente dal 30 novembre fino a qualche giorno fa dove Bitcoin ha lateralizzato non ha fatto niente candele praticamente da meno 1 più 1 meno 080 più 080 noiosissime siamo ritornati esattamente qua quindi si è rimangiato il pump di questi tre giorni e siamo ritornati con due candele alla situazione precedente. Ora sul breve termine Bitcoin ha come supporto i 16.800 quindi non bisogna andare sotto i 16.800 perché nel caso in cui Bitcoin dovesse andare chiudere la giornaliera sotto i 16.800 c'è la probabilità che Bitcoin possa andare a ritestare la zona dei 16.000 dollari o peggio andare a fare dei nuovi minimi. In realtà peggio dipende dai punti di vista se siete short ovviamente direte meglio se siete long magari meglio di no quindi le zone di importanza sono comunque questi 16.800 e verso l'alto i 17.600 poi abbiamo tutte le varie medi 18.200 la media 300 weekly 18.600 questo box qui fino ai 20.000 poi abbiamo i 19.000 c'è la media 21 weekly. Insomma verso l'alto è più difficile andare per quello che secondo me Bitcoin se non ha le forze è probabile che consolidi qui a meno che ripeto serva una candela verde. Problema 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 che ripetiamo il peggio è passato sì questo non significa che Bitcoin non possa fare nuovi minimi perché la situazione per andare giù c'è ragazzi cioè abbiamo questo misero supportino qua a 16.800 che è fragile ragazzi è fragile c'è basta una candelina si va giù. Poi abbiamo sì questo qui che è più importante che è quello sui 15.000 16.000 che è quello dei vecchi minimi però poi dopo qui non c'è più nulla sotto no e dove si va sotto come vi ho già detto si va secondo me sulla media 400 sul settimanale che attualmente è a 13.800 ovviamente considerate che questa qui va mano a mano salire quindi magari potrebbe arrivare nelle prossime settimane a 14.000 quello che è 14.200 se vediamo il prezzo scendere. Ok quindi questa è un po' la mia considerazione ovviamente ragazzi non so dirvi come andrà dove andrà il prezzo di Bitcoin da qua a un giorno due giorni non ne ho la più palida idea ripeto però secondo me il peggio è passato nel 2023 ci saranno grosse opportunità sulle cripto e secondo me ripeto non vedremo un altro anno. Poi adesso non voglio farla gufata però non vedremo un altro anno con un candelone da meno 63% ripeto se dovessimo vedere un altro meno 63% andiamo praticamente a 6.000 dollari secondo me non è una cosa possibile. Poi ripeto può succedere di tutto tipo la situazione di adesso sul breve termine purtroppo è una situazione difficile perché perché ci sono tante notizie negative in questo momento una tra tutte come avete letto dal titolo è la notizia di Binance. Binance è in pericolo potrebbe essere la prossima ve l'ho fatto vedere nei giorni scorsi che ci sono state anche delle accuse pesanti da parte di Kevin O'Leary che praticamente ha detto che il crollo di FTX è stato colpa di Binance, Binance deve essere regolamentato c'è anche un po' di food ora su Binance eccetera eccetera eccetera. Ragazzi il discorso secondo me è sempre lo stesso e ripeto lo stesso discorso che ho fatto con FTX quando era successo il tutto tra l'altro prima che fallisse quando giravano le voci vi avevo fatto la puntata della domenica e poi era crollato tutto martedì e vi avevo detto queste cose. Io personalmente non credo come non credevo che FTX crollasse non credo che Binance crollerà ok non ho secondo me Binance non crollerà poi adesso andremo a vedere la Dominance secondo me Binance non crollerà e non fallirà però stessa cosa che vi ho detto con FTX ragazzi le cripto non vanno detenute sugli exchange not your keys not your coins Gli exchange bisogna utilizzarli solo per fare trading o attività di compra vendita Binance va benissimo per acquistare spot il problema è che poi Binance non ha i futures cosa significa che non ha i futures vuol dire che non potete andare a operare short non potete andare a operare long con le leve non potete utilizzare i derivati quindi Binance è limitato in Italia. Quali sono le alternative ve le consiglio sempre qui sotto all'interno della mia descrizione avete Bitgett avete Bybit avete OkEx tra l'altro Bybit ora sta facendo delle promo molto molto interessanti per il suo quarto anniversario quindi se non siete ancora registrati su Bybit cliccate il link in descrizione registratevi anche Bitgett è molto buono come exchange. Però ripeto vanno utilizzati per fare trading basta non vanno utilizzati per tenere lì le cripto ragazzi le cripto sono belle perché sono decentralizzate quindi cosa vi dovete fare? Vi dovete fare il vostro portafoglio ci sono anche portafogli gratis ok dove voi avete le vostre chiavi private quindi mi raccomando questo è importante poi non dico di avere tutto sulle chiavi private anche perché la self custody quindi la custodia fai da te quella dove hai proprio le tue chiavi private può avere anche dei contro perché potete effettivamente perdere le chiavi private come a me è successo io come vi ho caricato il video qualche giorno fa tra l'altro non me ne ho neanche mai segnate quelle chiavi private ho perso dei soldi. Su un portafoglio perché per una mia ingenuità però come vi ho detto anche con il discorso FTX i soldi meglio perderli perché fate uno sbaglio voi e non qualcun altro quindi secondo me ripeto gli exchange vanno benissimo utilizzarli ma non sono strumenti dove tenere i vostri soldi sul lungo termine. Ottimi per fare trading se volete fare trading ve l'ho già detto trovate BitGet, Bybit, OKEx qui sotto in descrizione sono ottimi sono quelli che utilizzo anche io e mi trovo benissimo quindi tra l'altro ripeto Bybit c'è anche questa promozione quindi cliccate se trovate sul mio gruppo trovate la ruota della fortuna di Bybit. Figata ci sta se siete nuovi utenti ottimo però ripeto trading non appunto non andate a fare cose di tenere i soldi metterla rendita ma questa fede mi rende il 10% ragazzi no è un rischio troppo elevato soprattutto in bear market. Perché in bull market ragazzi come fate gli investimenti ora in bear market bisogna fare attenzione a fare gli investimenti fino a quando era il bull market che andava tutto su compravo a caso e comunque in qualche modo restava a galla ora nel bear market è più difficile. Quindi ripeto la situazione non è complicata cioè la situazione non è facile soprattutto perché ci sono un po' di notizie negative in giro notizie negative che però tutto sommato anche se ovviamente non mi fanno piacere perché vedo il prezzo di Bitcoin appunto non salire ma in realtà a me ragazzi ripeto forse sono più felice perché mi permette di accumulare Bitcoin a 16.900 cioè se compravate come dei pazzi Bitcoin a 50.000 60.000 dollari che motivo c'è adesso di non comprarlo? Eravate lì a 50.000 compra 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 prendevate tutti i soldi che avevate per mettere sulle cripto perché volevate andare in pensione in un anno. Ora che Bitcoin è a 16.900 ora non sono consigli finanziari però capite che non è cambiato niente perché uno dice no io non lo compro è la psicologia psicologia quindi iniziate a capire voi stessi fatevi un po' dei ragionamenti. La cosa che però mi sta piacendo attualmente è che con tutto questo food con tutte queste notizie negative la dominance di Bitcoin sta salendo e sta andando piano piano a erodere il capitale sull'alcoin in prezzo di Bitcoin. Questo ragazzi è oro colato abbiamo visto Ethereum BTC che sta perdendo un po' di terreno tra l'altro qui abbiamo una trend line su Ethereum BTC che sta tenendo quindi se tiene e continua a scendere molto molto bene. Io personalmente sono più che felice la dominance ha bisogno di andare su ragazzi Ethereum non sto dicendo che fa schifo non sto dicendo che è orribile ma in questo momento Ethereum secondo me ha bisogno un po' di scaricare il prezzo. Va bene il merge va bene che hanno fatto un aggiornamento assurdo però non può essere effettivamente cioè Ethereum ragazzi non ha subito il bear market cioè non è che non l'ha subito l'ha subito ma guardate il prezzo di Ethereum ragazzi Ethereum dollaro cioè non è andato neanche a fare dei nuovi minimi. Questa è un po' la struttura su Ethereum abbiamo i 1.100 come prossimo supporto e come zona di interesse però cioè capite bene che questa è una struttura molto migliore rispetto a quella di Bitcoin non è andato neanche a fare nuovi minimi mentre Bitcoin si Ethereum no. Quindi personalmente io in realtà spererei che magari Bitcoin tiene questo livello e Ethereum BNB così scendano e vanno a fare dei nuovi minimi. La dominance deve salire guardate BNB ragazzi guardate BNB non ve la faccio vedere in dollaro ve la faccio vedere in BTC perché fa ancora più impressione. Cioè questo ragazzi è BNB BTC non ha subito ok che praticamente è come se fosse un'azione è l'azione di Binance ok se volete investire in Binance dovete investire in BNB però non è possibile che una cripto cioè guardate che rendimenti ok che un exchange è come un casino quindi il banco vince sempre però cioè naturale un attimo di discesa. Quindi secondo me questa discesa è tutt'altro che positiva non perché non mi piace BNB non perché anzi secondo me può essere interessante questo crollo vediamo fino a quanto durerà io ripeto più scende meglio è anche se mi fa un 50% in prezzo di Bitcoin e ritorna almeno in questa zona qui io sarei ultra felice secondo me è una cosa che deve fare cioè è salita veramente tanto ok? è salita veramente tanto in prezzo di BTC ma anche un po' come tutte le altre alcoin quindi hanno bisogno di andare a perdere terreno il dollaro anche qui un po' sta scendendosi ma in realtà si è un attimo tranquillizzato speriamo che continui la discesa vediamo un po' che succederà settimana prossima. Altra cosa importante da dirvi ragazzi sono le notizie che vi ho condiviso qui sul gruppo Telegram perché Elon ha appena scritto che è presto signori e signori il colpo di grazia io non so cosa lui intenda. Tra l'altro questa cosa qui per fortuna non è andato neanche a muovere troppo il mercato quindi Elon ormai non ha più così tanta influenza sul mercato anche se ovviamente le sue parole purtroppo fanno un po' scatenare il retail però ricordiamo che Elon non avrà più lo stesso impatto su Bitcoin come l'ha avuto in precedenza. E poi c'è anche la notizia che la SEC continua a rigettare le richieste per un ETF spot. Questo che dire non è una cosa ottima nel senso che ovviamente un ETF spot su Bitcoin farà tanta roba ma prima secondo me la SEC deve passare al 2023 a regolamentare exchange e alcoin. Poi magari nel 2024-2025 molto più probabilmente forse il 2025 con la bull run che ci sarà magari una sorta di magari eh magari non è neanche il 2025 magari il 2026 non ne ho idea di quando sarà la prossima bull run più o meno secondo me sarà intorno a quello dopo l'albino questi discorsi qui. Però ripeto abbiamo bisogno di una regolamentazione del settore anche per vedere queste cose e anche per vedere il prezzo di Bitcoin poi arrivare effettivamente a 100k e eh arrivare capitale. Quindi ragazzi per questo è tutto noi ci vediamo alla prossima vi ricordo il link in descrizione per gli exchange che vi consiglio e mi raccomando non perdetevi questa promo di Bybit. Vedete che in occasione del suo quarto anniversario Bybit appunto ha lanciato un concorso completando dei task all'interno della piattaforma si ottiene la possibilità di girare una ruota della fortuna per task completato. Si può vincere fino a una BMW X5 io spero che voi possiate vincere una BMW X5 nel caso venite a Bergamo e ci facciamo un giro insieme. Venite a prendere mi ho fritto ovviamente un pranzo e poi andiamo da questa parte dei scherzi ragazzi. Se c'è tempo fino al 15 gennaio per completare i task e girare le ruote perché per partecipare cliccate qui nel link che vedete qui nel mio gruppo Telegram oppure direttamente registratevi con il mio link e poi troverete tutto all'interno dell'exchange. Mi raccomando solo però per fare trading. Ciao ragazzi e ci vediamo alla prossima.